No no, dice che è successo, deve far vedere bene l'ambulanza, sta facendo pronto intervento, ha beccato in mano, non l'ha visto in marciapiede a terra, è andata a finire in marciapiede, ma si è fermata, guarda che ha combinato, ha ripigliato marciapiede, non l'ha visto marciapiede a terra, è proprio un giorno all'ultimo, non lo sta a fare, meno male non ne aveva nessuna indefettura, meno male, No no, dice che è successo, deve far vedere bene l'ambulanza, sta facendo pronto intervento, ha beccato in mano, non l'ha visto in marciapiede a terra, è andata a finire in marciapiede, ma si è fermata, guarda che ha combinato, ha ripigliato marciapiede, Non l'ha visto in marciapiede, non l'ha visto in marciapiede, non l'ha visto in marciapiede, non lo sta a fare, meno male non ne aveva nessuna indefettura, meno male.